partiti Sagar Paranormal Beauty Intenzionato Laurent Express e Royal Black All'inizio della curva prosegue in vantaggio Larga Augusto davanti a Golden Jimmy Drumkirbo Sib Sagar Paranormal Beauty Intenzionato Royal Black e Laurent Express poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio Larga Augusto davanti a Golden Jimmy Drumkirbo e Sib Sagar i cavalli entrano addirittura con Larga Augusto in vantaggio davanti a Golden Jimmy Drumkirbo Sib Sagar Paranormal Beauty Laurent Express Intenzionato e Royal Black è sempre in vantaggio Larga Augusto davanti a Intenzionato Drumkirbo allo steccato opposto Laurent Express è in vantaggio Larga Augusto attaccato all'esterno da Drumkirbo seguono Intenzionato e Laurent Express è sempre in vantaggio Larga Augusto davanti a Drumkirbo e Laurent Express attaccato all'esterno attaccato all'esterno grazie a tutti Grazie a tutti . Grazie.